Taglio del nastro per il nuovo campo in sintetico di Vismara. L'intervento di manutenzione del costo di 800.000 euro ha visto la sostituzione del manto in erba naturale esistente del campo principale con erba artificiale, realizzazione di un nuovo campo da calcio a 5 in erba artificiale per allenamenti e inoltre la manutenzione degli spogliatoi e della tribuna. Un impianto davvero bello, uno dei più belli che abbiamo realizzato, che Vismara si meritava, si meritava dal punto di vista sportivo perché ci sono tante squadre, dal punto di vista sociale perché qui crescono tanti ragazzini con dei sani valori, ce lo meritava perché grazie alla generosità del Vismara oggi la Vispesaro in Serie C, c'è stato un passaggio di categoria nel momento più delicato per la Vispesaro e io non me lo sono dimenticato. Ed è un investimento importante per tutto il quartiere, è davvero un campo a 11 di ultima generazione, illuminazione perfetta, campo a 5 di allenamento, tutta l'area degli spogliatoi, della tribuna e dei giardini intorno ristrutturati, quindi davvero un investimento al quale tenevamo molto, un bel investimento, circa 900.000 euro e quindi siamo molto soddisfatti e credo che anche i tanti cittadini che sono qua, le tante famiglie da oggi potranno godere di uno spazio all'avanguardia sia per lo sport sia per la socialità. Oggi veramente è una giornata importante per tutto il quartiere del Vismara e di Catabrighe perché sono stati tanti anni che eravamo dietro per avere questo impianto, oggi finalmente grazie al Comune e a tutta la partecipazione che hanno contribuito a fare questo impianto, veramente è stata una cosa molto bella oggi. Oggi si inaugura il campo sportivo, il campetto da calcetto a 5, si inaugura anche il parchetto dietro che sarà a disposizione del quartiere che noi comunque abbiamo come Polisportiva dedicato al quartiere perché ci sembrava giusto che lo sforzo comunale era concentrato sulla Polisportiva e noi abbiamo voluto ricambiare al quartiere facendogli dono di questo parchetto.